Ho sognato che un accusatore mi afferrava e mi trascinava in giudizio davanti al giudice e il giudice ero io stesso che mi interrogavo da me, mi perseguitavo, mi sgridavo e infine mi autocondannavo all'agogna. Come? Tra voi stessi? È la verità, sono sincero. Poi di nuovo ridiventavo uno solo e siamo fuggiti e fumo costretti a dormire tra gli abiti. E ora, che significato ha questo sogno? Il diavolo sa interpretare i sogni. Comunque anche se non fosse che un sogno, io sento che mi minaccia un brutto scherzo. Quante stupide paure! Grazie a tutti!